Nonostante non potesse avvicinarsi alla ex convivente per via di un provvedimento del giudice, si era recato lo stesso a casa della donna per aggredirla. Gesto che è costato l'arresto con applicazione dei domiciliari per un giovane nisce mese di 31 anni, il quale si è visto confermare gli arresti in casa con il braccialetto elettronico dal GIP del tribunale di Gela, al termine dell'udienza di convalida. La donna aveva subito denunciato l'aggressore ai carabinieri. I militari erano rapidamente arrivati sul posto e lo hanno arrestato cogliendolo sul fatto. Adesso sul capo dell'indagato pendono le accuse di maltrattamenti, lesioni, atti persecutori e violazione di domicilio. Non appena verranno chiuse le indagini si passerà alla fase del processo, se la procura deciderà di esercitare l'azione penale.